bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video allora oggi siamo questo è un video di mio cugino intanto vedete lo slime allora non l'ho comprato ho fatto io farò video in cui lo farò con mio cugino allora io ho detto di fare questo video perchè lui come la mamma gli ha fatto scioppare 21 euro e ha scioppato le gemme si è andato a prendere leon adesso vi faccio vedere il video mi raccomando arriviamo almeno a 5 like almeno ciao ragazzi io sono il cugino di leonardo e adesso mi ando a prendere l'offerta del mio ultimo leggendario leon via ecco e si non sapete che l'invidia che ho per il mio cugino più la skin cioè io aspetta andate no ciao ragazzi mi sento via e si 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 più la skin più la skin cioè io le skin non le prendo praticamente mai ma prendo pure la skin di leon adesso tipo leonardo mi starà tipo invidiando tantissimo leon squalo e leon l'ultimo mio leggendario guardate così mi mancano due mitici all'arrivo di 6 minuti raga se vi ricordate prima il video precedente che ho fatto ho detto che mio cugino avrebbe fatto il video io ve l'avrei fatto vedere beh eccolo e lui sta avanti di un brawler su di me perché praticamente fino a stamattina gli ho detto ma lo sai che abbiamo i brawler comunque a me mi manca Maxine a te cioè io ho già Maxine e tu hai Mr. P e vabbè lo stesso mitici ce ne manca lo stesso due e lui ha detto no a me uno io gli ho detto perché sul profilo ce n'hai uno e comunque va bene ecco Maxine fatte trovare il box opening gli manca eh faremo un box opening e anche se mi non guardo allora faremo un box opening però questa faccenda del coronavirus non si può fare e allora è così no date le casse adesso andiamo a selezionare leon ecco troppo bello troppo bello e ciao ecco allora un attimo un attimo raga eccoci tornati perché io non c'è per adesso guarda lo invito pure adesso non c'è non c'è no non lo volevo usare va bene non lo so non lo so bene andiamo a selezionare jaw non c'è non c'è non c'è ma c'è ma c'è un attimo raga ma c'è tra i wandi Un boxeo di me, io spero di trovare un semino e non so più. Ma leggellare un numero di euro, perché ne ha trovati tre, un'e-reta, due ne ha scioccati. Ne ha trovati se lo stai. Io ho scioccato uno, ciò vanno. E volevo spruccarmi. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Ah, just have to do stuff. Calm down, everyone. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Un attimo. Sì, è un luogo. No, 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 no. I'm so tired. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.